Immerso nel fascino e nella quiete di un paesaggio naturale mozzafiato, il ristorante La Quintana è un luogo che offre a voi sposi spazi suggestivi e romantici e vi conquisterà con un ricco e curatissimo menù. Una suggestiva sala, arredata con gusto e caratterizzata dai toni caldi della pietra, del cotto e del legno e decorata con antiche specchiere, è perfetta per l'allestimento del vostro ricevimento noziale. La sala del ristorante è il risultato del perfetto restauro dell'antico fianile della tenuta. Con una capienza di 180 persone, questo spazio presenta uno stile rustico ma decorato con un'attenta cura dei dettagli, per consentirvi di trascorrere al meglio ogni istante della vostra indimenticabile giornata. Scegliendo il ristorante La Quintana per il vostro matrimonio, potrete decidere di celebrare la cerimonia nella chiesa di San Siro, situata a soli 100 metri dalla location. Se preferite il rito civile, lo staff specializzato del ristorante sarà a vostra disposizione per organizzare uno scenario da sogno nel giardino della tenuta, aiutandovi a creare un'atmosfera romantica e da fiaba, perché tutto sia come l'avete sempre immaginato. Per i suoi confortevoli ambienti e splendidi giardini, il ristorante La Quintana è lo scenario ideale per ogni tipo di evento, dai meeting e convegni aziendali alle feste private, che potrete organizzare all'aperto o nelle sale a seconda della stagione.